ciao amici come state sono laura cepeda da messico benvenuti a casa mia e benvenuti al mio canale in italiano laura cepeda italia oggi ti vado a insegnare a fare questo bellissimo gilet al uncinetto o crocette molto molto facile iniziamo per fare questo gilet bisogna fare 70 catenele alla fine di queste 70 catenele facciamo tre catenele di più e torniamo facendo due punti lunghi due catenele due punti lunghi due catenele una volta lasciamo un spazio e un'altra volta lasciamo due spazi un punto lungo per ogni catena così due catenele lasciamo due spazi e un punto lungo e così facciamo tutto il giro due punti lunghi due catenele due punti lunghi due catenele una volta lasciamo un spazio e un'altra volta lasciamo due spazi così alla fine del giro giramo il tessuto saliamo con 4 catenele e qui dentro dobbiamo fare due punti lunghi due catenele due punti lunghi nel seguente spazio e così tutto il giro e così dobbiamo fare tutto il tempo dove sono gli spazi dobbiamo fare gli due punti lunghi e poi due catenele così tutto il tempo alla fine di ogni volta dobbiamo fare 2 catenele e un punto lungo così saliamo con 3 catenele e prendiamo qui e così abbiamo fatto gli due punti lunghi due catenele due punti lunghi così tutto il tempo guarda come lo faccio alla fine dobbiamo fare 16 giri guarda come ho fatto 16 giri questa è una parte del gilet allora dobbiamo fare la seguente parte del gilet così prendiamo il filo sul dito così tre volte e alla fine facciamo un nodo così facciamo un punto basso e lasciamo il filo così approssimatamente 4 centimetri di nuovo punto basso e lasciamo il filo così ad avere 12 allacciature di queste e ricorda che ogni deve essere di 4 centimetri così ad avere 12 allacciature e quindi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Due catenelle e un punto basso e così a fare tutto il giro. Grazie a tutti. Saliamo con 3 catenelle e facciamo 3 punti lunghi così e nel seguente spazio facciamo 2 punti lunghi. E poi nel seguente spazio facciamo 3 punti lunghi così tutto il giro. 2 punti lunghi, 3 punti lunghi, 2 punti lunghi, 3 punti lunghi in ogni spazio. Un punto alto lungo, molto lungo. Alla fine qui facciamo un punto lunghi così. Così giriamo il tessuto, saliamo con 4 catenelle e facciamo un punto lungo, 2 catenelle. Di nuovo 2 catenelle, un punto lungo così tutto il giro. Alla fine di questo giro giriamo il tessuto, saliamo con 3 catenelle e in ogni spazio dobbiamo fare 3 punti lunghi. Nel seguente spazio 3 punti lunghi e così dobbiamo fare tutto il giro, 3 punti lunghi in ogni spazio. Giriamo il tessuto e dobbiamo fare un punto basso, una lacciatura, un punto basso, una lacciatura di 4 cm come abbiamo fatto qui all'inizio. Ti consiglio di avere sull'uncinetto solo 3 o 4 lacciature. E poi iniziamo di nuovo. E quando facciamo il punto basso dobbiamo fare come un nudo così. Alla fine di questo giro iniziamo qui dove... iniziamo qui, giriamo il tessuto e dobbiamo fare una schiuma di mare per iniziare questo giro così. 2 catenelle e un punto basso e ricorda che dobbiamo prendere ogni alaciatura. 2 catenelle, un punto basso, 2 catenelle, un punto basso così tutto il giro. Sessere il tessuto, 2 catenelle, un punto basso, 3 catenelle, un punto basso. Saliamo con 3 catenelle e in ogni spazio, che è questo, dobbiamo fare due punti lunghi in ogni spazio, due punti lunghi in ogni spazio. Guarda come si vede, è bellissimo questa parte, giriamo il tessuto e saliamo con 4 catenelle. 2 catenelle e un punto lungo qui, di nuovo 2 catenelle e un punto lungo qui per 5 volte. Qui possiamo saltare alcun punto. Alla fine, giriamo il tessuto e saliamo con 3 catenelle. Facciamo 3 punti lunghi così, nel siguiente spazio 2 punti lunghi, nel siguiente spazio 3 punti lunghi e così tutti il giro, 3, 2, 3, 2, 3, 2, in ogni spazio. In ogni spazio 3 punti lunghi, facciamo lo steso, 5, 4, 3, 2, 1, 5, di lunghi. questi con un punto e nel seguente solo facciamo con due punti così. Cinque quadrati di questi prendendo solo un espazio e nel il seguente quadrati dobbiamo fare prendendo due espazi così. Così dobbiamo fare tutto il giro. Cinque normali e uno saltando un punto. Cinque normali per questa parte sia piana alla fine, così. Alla fine facciamo un ultimo giro con due spazi di tre punti lunghi, un spazio di due punti lunghi, due di tre punti lunghi, un altro di due punti lunghi. Guarda come lo ho fatto. Così tutto il giro. E così abbiamo finito questa parte per una talla piccola o mediana. Se tu hai una talla più grande tu devi fare due giri di più in questa parte o il giri che tu bisogni per la tua misura. Allora dobbiamo fare le maniche per quello dobbiamo fare 15 catenele. torniamo al terzo punto e facciamo un punto lungo. due catenele, lasciamo due punti e nel terzo facciamo due punti lunghi. Di nuovo due catenele, due punti lunghi, così. Lasciando due catenele, così, nella parte di sotto. alla fine giriamo il tessuto, saliamo con tre catenele e un punto lungo insieme. Due catenele e facciamo lo stesso che abbiamo fatto nel giro precedente. Due punti lunghi, due catenele, due punti lunghi, due catenele. Alla fine di questo giro dobbiamo fare due punti lunghi, così. Giriamo il tessuto, saliamo con tre catenele. Devono essere due punti lunghi, poi due catenele, due punti lunghi in questo spazio. E così tutto il giro. E guarda come abbiamo aumentato questa parte facendo così. E così dobbiamo fare sette giri. Guarda per favore, qui io ho fatto gli sette giri. Vedi come si è aumentato questa parte. Abbiamo iniziato qui e poi alla fine abbiamo finito qui. Tagliamo con le forbici, ma dobbiamo lasciare un filo lungo così, perché dopo dobbiamo cucire con questa parte. Dobbiamo fare un altro triangolo così, come abbiamo fatto per fare l'altra manica. E allora dobbiamo unire tutte le parti così. E sempre dobbiamo vedere qual è la parte diritta, che dove dobbiamo unire così. dobbiamo mettere un marca punti qui. Un altro marca punti qui nel centro. E un altro marca punti qui. Contiamo cinque quadrati e mettiamo un marca punti così. dobbiamo cucire con filo e ago questa parte e questa parte così. Con un ago di lana e con l'esteso filo dobbiamo unire così. Facciamo un nodo e poi dobbiamo unire un punto di questo lato e un punto di questo lato. Guarda come lo faccio. E quando arriviamo qui, solo dobbiamo prendere una volta un filo e un'altra volta due fili. Un'altra volta un filo, un'altra volta due fili. Allora ti dico come. guarda questa parte. Io ti avevo dito che solo cinque quadrati, ma alla fine ho fatto di otto quadrati. Ho unito otto quadrati perché il mio braccio è un po' più grande, ma come tu vuoi è come sia la tua misura. Allora dobbiamo unire la manica. Prendiamo con un marca punti qui e qui così, di questa parte. E dobbiamo unire da qui a qui. E poi da qui a qui. Guarda per favore che bellissima si vede questa manica. E dobbiamo fare lo esteso con l'altra manica. Dobbiamo unire uguale così. Allora dobbiamo fare un giro finale. Per quello dobbiamo fare un giro finale. Per quello dobbiamo fare un nodo qui. Facciamo cinque punti bassi. e poi facciamo una lacrima, che sono due catenelle, e poi facciamo un punto basso qui. e di nuovo facciamo cinque punti bassi. E così dobbiamo fare tutto il giro. Cinque punti bassi, una lacrima, cinque punti bassi, una lacrima. Tutto l'intorno del nostro gilet. E così, amici, abbiamo finito questo bellissimo gilet all'uncinetto. È stato bellissimo, è molto facile da fare e anche molto veloce. Un bacione. Ciao! 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 Ciao!